Infiltrazioni di acqua, allagamenti, distacco di materiale dalle pareti, problemi microclimatici, mancanza di areazione, illuminazione e problemi di sicurezza degli impianti elettrici. È lunga la lista di criticità esposta dai Cobas sugli spogliatoi per il personale dell'ospedale Serristori di Figline Valdarno. Le foto scattate da Andrea Calò dimostrano come la situazione sia davvero insostenibile e non più all'altezza degli standard igienici passati ormai ampiamente. Questo si sapeva nell'ambiente infermieristico e medico già da tempo, con una segnalazione arrivata addirittura alla direzione ASL già due anni fa. Ma a mettere in luce ciò è stato un sopralluogo ieri dei rappresentanti dei lavoratori. Un locale che non è più in grado di competere con la sua funzione. Alla richiesta di un sopralluogo anche da parte dell'ASL Toscana Centro è stata in queste ore proprio l'ASL stessa a rispondere con l'invio dei propri tecnici che hanno decretato la chiusura dello spogliatoio uomini con lo spostamento provvisorio di tale funzione in altri locali. In realtà sembra che già da tempo il personale ospedaliero era costretto a spogliarsi nei propri reparti come denuncia Calò stesso. Adesso si aspettano i tempi di ristrutturazione dei locali con un progetto e il via poi ai lavori. I tempi che però sono ovviamente per ora sconosciuti. Un'altra magagna dunque sollevata dai Cobas nell'ospedale più discusso e da sempre messo in dubbio e che viene a poche settimane dall'inaugurazione del nuovo DH oncologico.